Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video Io sono Mr. Mario E oggi siamo di nuovo Signora New York Cavolo, era l'ultimo quello No dai, potevo finire No dai Potevo finire tutto il gioco Invece per quella parlatina Forse non ve la ricordate Aspettate che ora ve la faccio vedere Già, proprio per quella parlatina Io Ho dovuto sprecare Tutto il tempo del livello e quindi Non ho potuto fare l'ultimo Livello Ed è proprio questo Va bene gemelli Andiamo però A una condizione Perché non scendete tutti da una parte E mi lasciate Andare a finire questo stupido livello No eh Faccio il tampone E faccio uscire dalla macchina subito Però sembra Pare strano ragazzi Qui L'ultima volta l'ho fatto in tre anni E non ci sono riuscito E qui sto facendo tutto in un minuto E non c'è neanche il tizio Dove è finito il tizio? Non c'è il tizio ragazzi E' sparito il tizio Non ci posso credere Quello che ho tamponato per sbaglio ovviamente Quello che ho tamponato l'ultima volta No non ci posso credere Che fortuna oggi ragazzi E' vero che quando piove c'è sempre fortuna da tutte le parti Qualcosa mi dice che devo fare il giro Ma io non lo voglio fare il giro Quindi vado direttamente Aspettate No incontromano No No Che con cosa? Con cosa? No 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 ragazzi No veramente no Dai Non sono in vena di scherzi Vi prego Vi prego per favore ti prego Gio dai Non prendertela così Stavo scherzando Dai stavo scherzando l'ultima volta Oh ci sono due gemelli e un tizio adesso Sono spariti i tre gemelli Ora ci sono due gemelli e un tizio Incredibile D'accordo ora noi ci apprezziamo a muoverci Perché sennò quel tizio viene di nuovo A rompere le scatole andando a uno all'ora Pensate Più piano di me Se vi togliete magari Grazie zi Poi chiamo tutti zio Ma poi non so niente di loro Perché manco li vedo dal finestrino Vorrei tanto investirlo quel tizio che passa sempre Oh no No Stupide macchine mi hanno fatto Arrivato prima il tizio ragazzi Ve lo ricordate questo tizio? Do you remember Il tizio? Do you remember Do you remember Il tizio? Oh baby Oh baby Oh baby Oh baby Mmm! No! Ma qua per caso c'è strada? È deserto questo pezzo di strada. Vabbè, allora ci apprezziamo a fare un piccolo... Piccolo... No! No, zio, no! Non... Al contrario... No, dai, non ci posso credere. Sempre qui. Mi sa che facciamo un video intero su questo livello. Il livello più difficile del mondo che sembra quello più facile, Ma non è facile, ragazzi. Non è facile. Molto di me... È molto di meno. Cioè, ragazzi, è stra facile. Solo che io, visto che non ho cervello, Non posso farlo. Perché qualunque tizio abbia un cervello Può farlo questo stupido livello. Solo che io non posso, perché non ce l'ho il cervello. Tra l'altro, stavo anche sbagliando sempre, ragazzi. Non passa nessuno. No? Non passa nessuno? Questo vuol dire che... Che fortuna! Non ci credo! Non è in passato manco il tizio, quindi. Non ci posso credere. Non ci credo. Questo è troppo bello. No, non ci... No, questo è incredibile. Tra l'altro mi fanno fare il giro per niente, praticamente. Vai, vai così. Vai! Vai! Dai, muoviti! Vai che sei all'ultimo livello! Vai, muoviti! Vai! Vai che ci sei! Vai! Vai! Vai, vai, vai! Ci sei, ci sei, ci sei! Ci sei, ci sei! Ci sei, ci sei! Ci sei, dai! Calma, calma! Speriamo scendano in due in questo stupido posto. Come non detto. Fanno fare di nuovo il giro per questa stupida... D'accordo, ragazzi. Ho finito il gioco. Cioè, ci ho messo cinque parti e nell'ultima parte ho una puntata intera per l'ultimo stupido livello che si poteva fare in una volta. La puntata scorsa, la puntata scorsa potevo farlo veramente, poteva essere quello il finale, era molto più motivato come finale. Ma invece no! Dovevo farlo qui! Dovevo farlo qui! Quindi, ragazzi, la mia soddisfazione più grande è diventata realtà. Sono diventato un tassista incredibile. Permesso di guidare tra taxi, questo non so cosa vuol dire. Questa è la targa che mi esce. Questo è il numero... Non lo so. Da fog! Da fog, ragazzi! L'ha fatto fog a sto gioco. Il massimo di questo gioco era 519 punti e io ho fatto 519 punti. Qui c'è scritto Clickstone Sunday, tutto quanto sia. Ragazzi, sono emozionatissimo. Siamo riusciti finalmente a finire questo gioco che pareva impossibile. D'accordo, ragazzi. Se il video vi è piaciuto lasciate un commento mi piace qua sotto nella pagina di Facebook e io vi lascio a una prossima serie, ragazzi. Non ci posso credere. Non ci credo. Ce l'abbiamo fatta. D'accordo, ragazzi. Se il video vi è piaciuto lasciate un commento mi piace qua sotto. Qua sotto. Qua sotto, dicevo. E ci rivediamo in una prossima serie, perché è segnito. Da vostro Mr. Mario è tutto e alla prossima serie. Bella, ragazzi.